Anche lei ha problemi d'acqua? Molto, non esce per niente, né notte né giorno. Non ti puoi lavare, non puoi fare niente in casa. Non ci sta mai l'acqua, tutti i giorni e la sera quando si deve fare la doccia non è possibile niente. Anche lei ha problemi di carenza idrica? No, per fortuna abitiamo a Dragonaralta e quindi non abbiamo mai avuto questo tipo di problema. Da quanto tempo c'è questo problema? Saranno 10-12 giorni sicuro. Lei dove abita se posso? A Dragonaralta, via Nenni. Su queste vie basse e centrali, da come mi hanno detto insomma. E come stanno risolvendo? Venendo a ricaricare l'acqua qui alla cisterna. Qua c'è perdita da tutte le parti, la rete idrica è tutto marridotto. Ci hanno promesso che arriva una ditta di Padova, vediamo un po' come va a finire. Arriva proprio da Padova la squadra speciale di tecnici che dovrà cercare la perdita occulta alla rete idrica che da giorni ormai sta mettendo in ginocchio una parte della cittadinanza di San Giovanni Tiatino, al termine di un'estate che è già di per sé complicata dalla crisi climatica che ha ingigantito i problemi legati alla carenza idrica, da cui gran parte dei comuni bruzzesi sono stati afflitti. Non è bastato evidentemente l'intervento ordinario dei tecnici dell'ACA al lavoro da giorni per individuare la rottura che ha causato il calo drastico di pressione da Dragonar alla zona dell'aeroporto. E così, mentre si continua a lavorare per individuare e risolvere il problema, il comune di San Giovanni Tiatino domenica ha aperto il COC, il centro operativo comunale, mentre l'azienda consortile acquedottistica ha messo a disposizione della cittadinanza cisterne e autobotti per il rifornimento di acqua potabile in vari punti della città, come ha spiegato il tecnico comunale del settore lavori pubblici Enrico Vecchiotti. La situazione è che hanno fatto il primo intervento con questa società specializzata di Padova questa notte e hanno sezionato l'impianto nella zona dove si presume che ci sia questa perdita e hanno rilevato che per tutta la zona di Via Nenni praticamente non ci sono perdite. Adesso dovranno ripetere queste operazioni per verificare anche la rete che è presente lungo la Via Terno e lungo l'assa attrezzato. La gestione e la manutenzione delle reti idriche è di stretta competenza dell'ACA da quando c'è stato il passaggio delle reti idriche per legge dai comuni oppure dalle società che gestivano per conto dei comuni. L'amministrazione comunale sta facendo tutto il possibile per poter appunto diminuire questi disagi ma non è con l'attivazione del COC, con la messa a disposizione di punti di rifornimento e tutto quanto ma non ha proprio la possibilità di intervenire materialmente anche perché si ha bisogno di tecnici veramente specializzati per questo tipo di ricerca e di indagini proprio perché c'è questa perdita che come ricordiamo è molto importante, sono 15 litri al secondo. L'acqua non ci sta, quando torna si rovina il scaldabagno, si rovina le galleggiande del bagno, un po' di tutto. Al pian terreno c'è acqua, primo piano non c'è acqua, secondo piano non c'è acqua. E quindi ogni giorno viene a ricaricare qui? No, andiamo avanti con le bottiglie dei supermercati, chi si fa la barba con l'acqua frizzante.